Lo sport nella mia vita ha un ruolo estremamente importante, una fonte di motivazione grandissima e mi ha insegnato a superare gli ostacoli che incontro anche nella vita di tutti i giorni perché cercando una strada alternativa per superare gli ostacoli nello sport poi questa forma mentis si applica anche alla vita di tutti i giorni, a tutti quegli ostacoli che posso incontrare nella vita quotidiana, che sono tanti ma che possono essere superati. Ho scelto questa disciplina perché la praticava mia sorella maggiore, lei la praticava una volta alla settimana, proprio era il suo hobby. Io ho chiesto di essere portata a provare e non ho mai più smesso di montare perché il valore aggiunto del mio sport è proprio il rapporto col cavallo. Io amo moltissimo stare intorno ai cavalli, anche solo vederli, montarli, pulirli. Mi manca tanto infatti tutta quella parte che non posso più fare adesso, che riguarda proprio la gestione nel quotidiano del cavallo di cui io mi occupavo prima di ammalarmi. proprio perché a me piace quasi anche il profumo dei cavalli, che magari per altri non è un profumo, però per me sì. Allora, sicuramente le persone più importanti del mio percorso sportivo sono stati i miei tecnici, quindi Alessandro Benedetti e Laura Cons, tanto tanto anche la mia famiglia perché senza il supporto costante e anche un po' la spinta nei momenti in cui uno tentenna un pochino, quindi avere la famiglia vicino, mio marito, i miei fratelli, i miei genitori, mi hanno sempre spinta ad andare avanti e rialzarmi quando sono caduta, quindi ovviamente in senso metaforico. Del mio sport amo praticamente tutto, mi dà la possibilità di lavorare su me stessa, di cercare di migliorarmi, è una continua sfida contro me stessa. Io quando entro in campo veramente spero certo di superare i miei avversari, se no sarei una bugiarda, però per me è molto importante far meglio di quello che ho fatto in precedenza perché mi indica che sto percorrendo la strada giusta. In questo momento dire che cosa non mi piace del mio sport non mi viene in mente niente, ecco se non amassi praticarlo non avrebbe neanche senso, quindi io vedo lati positivi. L'atleta nella mia disciplina al quale mi ispiro di più e forse al quale vorrei assomigliare di più è Pepo Puch perché è un atleta di massimo livello mondiale, vincitore di moltissime medaglie, ma soprattutto è un grande uomo di sport, è un grande uomo a tutto tondo, quindi sicuramente è uno dei miei principali modelli all'interno della mia disciplina sportiva. Se non avessi fatto l'atleta nella vita, molto probabilmente sarei diventata un traduttore perché sono laureata in lingue e letterature straniere e ho quasi finito la laurea magistrale in traduzione dei testi letterari e saggistici e mi piace tantissimo tradurre perché è come una specie di gioco per me, cercare le varie mille sfumature delle parole, cosa c'è dietro. Per farla breve farei molto probabilmente la traduttrice. Una volta terminata la mia carriera da atleta paralimpica probabilmente vorrei dedicarmi ad insegnare, quindi con un ruolo di tecnico, ma senza dover andare a fare grandissime cose, ma magari più per chi sta iniziando, perché anche adesso sono un tecnico, quindi a volte seguo i ragazzi ed è una fonte di grandissima, come si dice, piacere, gioia per ogni piccolo passo in avanti che fanno. È una sorta di conferma che il lavoro che stiamo conducendo insieme è un lavoro giusto. Poi il rapporto con l'allievo, insomma sono tanti i fattori per cui mi piace insegnare e molto probabilmente una volta finita la carriera da atleta mi dedicherò a questo per quanto possibile. Il mio sport mi ha fatto vivere molti momenti bellissimi, i ricordi sono tanti, con significati differenti. Per esempio quando ho vinto il primo oro ai mondiali nel 2014 rappresentava il sogno, il sogno di raggiungere proprio il vertice mondiale. Quando ho vinto due ori nel 2018 il significato era forse ancora più importante perché uscivo da due anni un po' difficili dove ho avuto delle delusioni da un punto di vista sportivo, anche di risultati e quindi quella era proprio una rivalza. Io lì ho veramente realizzato quello che speravo. In più i mondiali nel nostro sport sono ogni quattro anni. Nei mondiali del 2014 ho vinto un oro in argento, e nei mondiali del 2018 ho vinto due ori. Ma non solo ho vinto due ori, ma ho migliorato tutte le percentuali con la stessa cavalla di quattro anni prima. Considerato che nel frattempo sono cambiate e anche le riprese sono diventate più tecniche, più difficili, è stato un risultato veramente grandioso. In più la mia cavalla è l'unica cavalla nel mio sport che ha vinto due mondiali consecutivi. Ci sono tanti atleti che hanno vinto anche tre mondiali, ma non mai con lo stesso cavallo, perché mantenere un cavallo così a lungo, nel massimo della forma possibile e performante nel miglior modo possibile non è una cosa semplice. Si dice sempre che il risultato una volta può essere un caso, ma è difficile ripeterlo. Quindi, insomma, è una soddisfazione veramente tanto grande. Non ho riti, non ho gesti scaramantici. Ho sempre messo in gara una spilla che mi è stata regalata dalla mia migliore amica da quando ero ragazzina. Mi regalò questa spilla d'oro con un corallo rosso che era di sua nonna e mi ha sempre accompagnato in tutte le gare questa spilla. Quindi, diciamo che l'unica cosa che non cambia mai è quella lì. La notte prima di una gara di solito dormo. L'unica cosa che mi succede sempre è avere il dubbio di ricordarmi la ripresa. Quindi, nonostante che le riprese siano cambiate quattro anni fa, quindi è quattro anni che faccio le stesse riprese, devo riguardare il grafico, devo immaginarlo in ogni singola frazione e ricordandomi tutto ciò che mi è stato insegnato. Ecco, questa paura più che di non far bene, ma di non ricordarmi un grafico che praticamente faccio da quattro anni. L'anno di pandemia è stato sicuramente uno shock, un qualcosa di surreale, qualcosa che sicuramente non avrei mai pensato di poter vivere. Io vivo una vita molto solitaria in un certo senso, ovvero non sono una che esce molto, a parte dedicarmi allo sport. Sicuramente la parte più di divertimento legata all'uscire la sera, piuttosto che divertirsi in quel senso non mi è mancata. Di sicuro mi è mancato enormemente vedere la mia famiglia, poter abbracciare le persone a cui voglio bene. Io sono riuscita a riabbracciare mio babbo dopo un anno e mezzo, perché comunque uno vive in una sorta di protezione verso l'altro, specialmente delle persone più fragili, nel senso che i miei genitori ora sono parecchi adulti e quindi uno cerca di salvaguardare la salute di chi ti sta intorno. Siccome io durante la pandemia comunque ho potuto continuare ad allenarmi anche se a porte chiuse, essendo un atleta di interesse nazionale, essendo l'equitazione valutato come uno sport rischio zero, comunque un minimo di contatto pur che fosse con pochissime persone c'è stato e la sola idea di poter essere veicolo di trasmissione ai miei genitori piuttosto che ai miei fratelli e ai miei nipoti mi ha limitato nel vederli. Io non vedo i miei nipoti da un anno e mezzo e questa è la cosa che assolutamente mi manca di più. Poi io sono molto empatica quindi anche l'idea di quello che è successo ad altri che hanno visto i propri cari uscire di casa portati via in ambulanza e non l'hanno mai più visti, persone che muoiono da solo in ospedale, cioè sono cose che veramente inimmaginabili e anche quando lo stavamo vivendo specialmente nella fase più più drammatica continuava a sembrare una cosa impossibile, impossibile. Una vittoria giochi la dicherei a tutte le persone che mi hanno aiutato lungo il mio percorso, lungo la mia strada e quindi i miei tecnici, tutto lo staff di supporto perché noi vediamo un binomio in campo ma non è solo quel binomio lì è risultato di un lavoro di tante persone, no? Da quello che mi aiuta nel quotidiano, la persona che mi aiuta nel quotidiano al posto dove io mi posso allenare e quindi alla persona che la gestisce al meglio a tutte le persone che mantengono lo stato di forma del mio cavallo quindi massoterapista tecar terapista perché ovviamente i miei cavalli sono trattati molto meglio che di me stessa e quindi però c'è no veramente il cavallo è un atleta d'altra parte deve essere un atleta che va alle Paralimpiadi quindi deve essere top della forma quindi a tutti quelli che mi hanno aiutato da un punto di vista tecnico e pratico e soprattutto la mia famiglia mio marito che mi sono sempre stati vicini c'è un'avversaria che temo più degli altri moltissimo è un'atleta americana che ha avuto un miglioramento strepitoso negli ultimi due anni e mezzo battendo record dopo record quindi forse lei è l'avversaria che temo di più ma non è l'unica ci sono altri avversari nel mio grado di classificazione che sono molto forti che stanno tenendo delle grandissime percentuali pertanto questa Paralimpiade sarà veramente dura insomma bisogna veramente essere ben preparati e metterci ogni stile di energia che abbiamo e sperare di fare il meglio possibile e uscire contenti almeno di quello che abbiamo fatto beh che inviterei a cena ci sono diversi atleti sia miei compagni italiani che anche all'estero veramente in questi anni ho incontrato tante belle persone anche proprio miei avversari diretti del mio stesso grado di altre nazionalità quindi sinceramente scegliere mi sarebbe difficile perché per un motivo o per l'altro ammiro tante persone e quindi penso che farei una cena molto numerosa sicuramente se invitassi a cena un atleta straniero lo inviterei a mangiare la pizza o la pasta che sono le cose che più ci rappresentano nel mondo allora io sono combattuta tra cedere alla stanchezza e tra il desiderio di partecipare a due gare molto importanti che sarebbero i mondiali del 2022 e le paralimpiadi di Parigi 2024 perché le paralimpiadi di Parigi per quanto riguarda l'equitazione avverranno nei giardini della regia di Versailles quindi già io ho sempre sognato di andare a visitarla immaginare di partecipare lì a una paralimpiade mamma mia è una forte motivazione a cercare di stringere i denti e mettercela tutta e andare avanti poi la tentazione di mollare ogni tanto c'è penso che sia fisiologica per tutti perché la stanchezza quando uno si prepara a questi livelli è veramente tanta sacrifici grandi sì a volte c'è questa tentazione di dire dopo Tokyo basta non smetterò mai di montare questo mai finché posso monterò sempre però prima o poi dovrò anche decidere di chiudere la mia carriera vediamo io sono una che vive un giorno alla volta perché è meglio così sinceramente non mi viene in mente alcun ruolo che sceglierei in un possibile talent a me piacciono le serie tv dove ci sono gli ospedali tipo Chicago Med Grey's Anatomy The Residence ce ne sono diverse di serie tv dove ci sono insomma queste storie tra medici e poi insomma non so perché c'ho questa cosa qui però mi piacciono e quindi li scelgo tutti di quel genere in questo frangente della mia vita anche perché è vero che ci sono anche cose brutte no che possono portarti magari a commuoverti ma molto spesso c'è anche una storia no che a volte è anche buffa o insomma che ti prende e quindi sono queste qui le serie che guardo sono tanti cantanti tra cui poter scegliere e quasi tutti se non tutti abbastanza nel passato quei classici che non moriranno mai Pink Floyd Queen Dire Straits i grandi della musica ecco beh la resilienza sappiamo bene che significa principalmente risalire cioè rialzarsi dopo essere caduti ci si riferisce a una barca che si torna nel verso giusto per me rappresenta quello che vivo ogni giorno perché ogni singolo giorno per un aspetto o per l'altro è una lotta anche per le piccole cose che possono essere estremamente banali a chi non ha una difficoltà come quella che posso avere io o altre persone con disabilità a volte che devo dire anche versarsi un bicchiere d'acqua può diventare difficile quindi la resilienza significa non cedere alla frustrazione di quello che non ti riesce fare ma tentare di continuare a farlo rialzarsi dopo una delusione prendere da una sconfitta ciò che ti insegna no perché uno può vedere solo la parte negativa o cercare di capire che cosa non è andato e quindi cercare di risolvere quella cosa e di migliorare però è questo continuo resistere resistere alle difficoltà sia nello sport che nella vita quindi è una parola che io conosco abbastanza bene che può essere tradotto con devo stringere i denti più che posso e quindi questo è è un po' Grazie.